Il Gup di Caltanissetta ha condannato a otto anni di reclusione Milo San Rado Savievich, accusato di una rapina avvenuta nel 2014 ai danni di Daniela Faraoni, attuale direttore generale dell'ASP di Palermo, e del figlio Leonardo Burgio, imprenditore e sindaco in carica di Serra di Falco. L'uomo dovrà anche risarcire i danni morali e materiali alle vittime della rapina che risale al 26 giugno di otto anni fa, quando madre e figlio nella loro villa di Contrato Altarello a Serra di Falco furono legati e imbavagliati da sei persone a volto coperto e armate di pistola che fecero irruzione nell'abitazione portando via denaro e preziosi. Le indagini condotte dai carabinieri di Caltanissetta e Serra di Falco, su delega della Procura, hanno portato a individuare diversi pregiudicati per i quali tuttavia l'accusa aveva chiesto l'archiviazione per la ritenuta insufficienza di prove. Le parti offese hanno presentato opposizione alla richiesta di archiviazione e il GUP Graziella Luparello aveva disposto l'imputazione coatta solo per Rado Savievich, a carico del quale aveva ravvisato gravi indizi di colpevolezza archiviando definitivamente le altre posizioni. L'imputato ha scelto il giudizio abbreviato che si è tenuto davanti al GUP Davide Salvucci che ha sposato la tesi delle parti civili difese dagli avvocati Antonino e Giuseppe Reina e Antonio Campione, mentre la Procura aveva chiesto la soluzione per insufficienza di prove.